Ciao Giuseppe, veniamo alla domanda che posto sul nostro forum riguardo allo stile della vista profilo tu dici che nella parte bassa della vista profilo non riesci a visualizzare i dati quali il numero della progressiva, la distanza parziale, ecc beh, questo ci fa capire quanto importanti siano gli stili in Civil 3D io qui ho preparato un esempio con il DVT della 2012 tu hai seguito il corso sulla versione, se non sbaglio, 2011 quindi c'è un cambiamento di stile proprio nella vista di profilo ti faccio vedere come funziona nella versione 2012 e come modificare questo stile nella tua, quindi in questo caso nel tuo esercizio partiamo dall'esempio che ho preparato qui c'è una superficie dove c'è un corridor, quindi c'è una vista di profilo e come vediamo non ci sono i dati della sezione perché non ci sono ancora le sezioni quindi la prima cosa che vado a fare è creare delle linee di sezione sul tracciato A come vediamo il gruppo linee di sezioni magari gli mettiamo un nome tracciato A e vediamo che va a tagliare appunto la superficie e il modellatore magari diciamo in base a un intervallo di progressive lungo le tangenti mettiamo 25 metri magari mettiamo 15 lungo le curve e le transizioni gli diamo un ok ecco qui che abbiamo creato le linee di sezione e infatti qui vediamo le nostre candele perché non vediamo i dati qui semplicemente perché nella vista del profilo quindi nelle proprietà selezionando la vista del profilo tasto destro proprietà vista profilo io devo indicare per il profilo 1 non il profilo del terreno del tracciato ma evidentemente la livelletta questo per tutte quelle finché mi permette di farlo vedete questa qui è grigetto non mi permette di farlo e questo non basta l'origine dei dati quindi dov'è che io vado a leggere i miei dati è dal gruppo linee di sezioni vado qui vado qui e li cambio a tutti ecco qui do l'applica do l'ok ed ecco qui che io leggo i dati per quanto riguarda ogni linea di sezione quindi il numero della sezione le progressive le distanze parziali e le quote di progetto e anche vedo la campitura delle ettometriche bene veniamo al al tuo esercizio allora qui sono già disposti in modo diverso le finche e vediamo subito che c'è un primo problema cioè nelle ettometriche compaiono dei punti interrogativi questo perché se io seleziono questa finca questa etichetta di finca faccio tasto destro e faccio modifiche modifica stile finca e vado nei dettagli della finca perché questa qui è una etichetta composta infatti vediamo che si tratta di una distanza incrementale nel componente vediamo qui nel nome del componente troviamo solo vedi la distanza di progressiva incrementale e quella la linea di distanza incrementale se andiamo invece diversamente nell'esercizio che ho preparato io e vado a selezionare la stessa finca se vado tasto destro modifica stile finca e vado sempre nella distanza incrementale in componente etichetta vediamo che nel componente ce ne sono molti di più adesso questo è uno stile che è stato creato ad hoc apposta per diciamo il mercato italiano quindi prevede il mercato italiano prevede che ci sia questo genere di campitura di rappresentazione delle ettometriche bene sarebbe inutile e faticoso andare a impostarlo personalmente questo questo stile quindi che cosa si fa in questo caso si prende uno stile dal dal file di esempio e si importa e si applica nel tuo caso com'è che si fa allora questo in particolare questo questo stile di finca riguarda la vista del profilo io questa la posso vedere da diverse parti in modo più particolare la vado a vedere nella scheda qui sull'area degli strumenti delle impostazioni e vado qui in vista profilo se vado in vista profilo io trovo innanzitutto gli stili di finca gli stili di finca e vado a vedere i dati del profilo i dati del profilo e qui trovo le finche ettometriche cioè quelle che ho appena aperto prima ok quindi quello che ho aperto prima andando a cliccare col tasto destro sulla finca le trovo andando in vista di profilo stile finca serie di finche e finca ettometrica e in più trovo un'altra cosa molto importante e quanto riguarda sempre dai dati di profilo chiedo scusa non dati di profilo ma serie finche eccola qui la serie di finche che significa la serie di finche che se io seleziono la mia vista profilo e vado in tasto destro proprietà vista profilo io tutte queste finche quindi proprio una serie di finche la posso settare e sia esportare sia salvare infatti qui c'è importa serie di finche o salva come serie di finche allora io che cosa ho da fare seguiamo il procedimento da zero nel file in cui io vedo che la mia vista profilo è fatta bene vado prima qui nella serie di finche e mi faccio una copia di quella impostata quindi la serie di finche stradali faccio tasto destro faccio copia vado qui nelle informazioni e gli dico serie finche stradali definitivo esecutivo e gli metto magari per facilitare il riconoscimento il mio nome Michele fatto questo gli do l'applica poi vado a copiare anche i dati del profilo quindi le finche lettometriche quindi faccio tasto destro faccio copia e questa qui la chiamo finchiettometriche Michele e faccio applica ok una volta fatto questo io che cosa posso fare mi posso affiancare quindi vado su vista affianca verticalmente i due progetti e avendo selezionato il progetto da cui voglio prendere lo stile quindi in questo caso questo di esempio vado prima su finchiettometriche Michele prendo e trascino tenendo premuto e rilascio qui la stessa cosa ricliccando qui vado sempre su vista profilo vado sempre su stili finca vado su serie di finche e copio quello che che ho appunto copiato cioè tenendo premuto trascino e rilascio qui dove mi serve adesso che cosa vado a fare vado chiaramente questo lo posso aprire tutto schermo vado qui tasto destro vado nelle proprietà della vista profilo e qui nei dati nelle finche faccio import serie finche vado a scegliere quello che ho importato quindi serie finche stradali definitivo esecutivo e gli do l'ok cambio anche quello delle ettometriche che mi interessava quindi prendo Michele do l'ok do l'applica do l'ok e vediamo innanzitutto se le ettometriche sono cambiate un attimo di pazienza che si aggiorna ecco vediamo che le ettometriche sono cambiate quindi non hanno più i punti interrogativi e poi vabbè mancano sono cambiate le posizioni dei dati però mancano i dati appunto perché mancano i dati perché dobbiamo fare quel lavoro che ho fatto nel mio esercizio precedente vado tasto adesso proprietà vista profilo e qui nella livelletta vado a indicare che voglio non la livelletta 1 ma la livelletta di progetto quindi lo faccio per tutte quelle che mi vengono consentite e per quanto riguarda l'origine dei dati anche questo gli dico che voglio quello il gruppo di linee di sezione che tu hai chiamato sezione tracciato ok fatto questo do l'applica ok e qui mi trovo tutti i dati ok grazie e a presto